Kick the Quarantine è un progetto rivolto ai giovani, un laboratorio online di espressione e condivisione in cui i ragazzi potranno confrontarsi quotidianamente tra pari e con un team di psicoterapeute. Partecipare all'attività è semplice, collegati alla pagina Facebook di Terzo Tempo e cerca Kick the Quarantine su Instagram. Guarda il video in cui proponiamo il tema della settimana. Facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento oppure pubblica un'immagine utilizzando l'hashtag Kick the Quarantine. Scopri le esperienze degli altri e commentale con le tue riflessioni. E ora lasciati ispirare, disegni, poesie, racconti, canzoni, scegli la forma che preferisci e crea. Invieci i tuoi contenuti legati al tema e noi ti invieremo un feedback in privato. Fai una domanda, esprimi i tuoi dubbi e proponi nuovi temi su cui riflettere insieme. E infine segui il video di restituzione e mi raccomando continua a seguire le pagine social. A partire dalle vostre testimonianze le psicologhe pubblicheranno riflessioni e strategie per affrontare al meglio la quarantena.